L'Atletico San Pietro agguanta la prima posizione nel torneo di promozione in coabitazione con il Campomarino a quota 33, due lunghezze in più rispetto al terzetto, formato da Virtus Gioiese, Petacciato e la Turris di Santa Croce di Magliano. Al comunale l'undici di Marco Palazzo ha avuto facilmente ragione di una maronea rimaneggiata, dimessa e in balia degli avversari. Partita in discesa per la squadra di casa che ha sbloccato il risultato dopo un quarto d'ora con il solito fraraccio. Raddoppio cinque minuti più tardi e il compagno d'attacco Jovine che mette la sfera alle spalle di Speranza dall'interno dell'area piccola. Partita per i frosolonesi che viaggia in tranquillità. Al ventisettesimo arriva la personale doppietta dello scatenato fraraccio che supera in dribbling Speranza prima di depositare in rete il comodo 3-0. Dopo una girandola di cambi la maronea si fa notare sul tacquino solo nell'ultimo quarto d'ora. Emanuele Roberti recupera una palla vagante ed è lesto a trovare l'angolino coperto per superare Capitan Vitone e fissare il risultato 3-1 per i padroni di casa. Abbiamo fatto un bel approccio alla gara, siamo stati subito determinati e decisi sotto porta e l'abbiamo subito sbloccata. Poi abbiamo gestito tutto l'intero match e è andata bene e siamo contenti di aver chiuso il giorno di andata in questa posizione. Ecco appunto, si è chiuso il giorno di andata, pensavate all'inizio del torneo di stare in questa posizione di classifica? Ma sinceramente non ci aspettavamo questa posizione, sicuramente siamo una buona squadra organizzata, quest'anno lavoriamo durante la settimana in maniera precisa e siamo contenti di essere lì. Un gruppo giovane ben assortito che sul proprio campo dà del filo da torcere tutte le avversarie? Sì, il fattore casa è fondamentale, dobbiamo fare più punti possibili in casa e finalmente sembra che ci stiamo riuscendo da inizio campionato e va bene così. Al termine di questo girone d'andata, in alto, quali sono secondo te le favorite per il salto di categoria? Sicuramente Campomarino e Gioiese, anche Petacciato, sono le favorite. Noi siamo lì e vediamo dopo questa sosta cosa succede.